Vieni Alfa! Eccolo! Alfa, il pastore italiano scomparso qualche settimana fa, è stato ritrovato privo di vita sul ponte ferroviario che attraversa il torrente Arzilla presso la foce di Fano, a 100 metri dalla sua abitazione. Probabilmente l'animale è stato travolto da un treno ad alta velocità, da come ci ha riferito il proprietario incredulo e sconcertato sul destino del suo fedele cane, a seguito delle ricerche e alla mobilitazione di tanti cittadini che attraverso i social network, tra cui è stata aperta anche una pagina Facebook dedicata alla scomparsa di Alfa, hanno inviato messaggi di cordoglio in vicinanza al proprietario del cane. La triste notizia è giunta nella serata di ieri nel quale il proprietario ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook ricordando il suo caro amico fedele, dedicandogli un pensiero. Dio ama tutte le cose che ha fatto e nulla disprezza di quanto ha creato, perché se avesse odiato qualcosa non l'avrebbe neppure creato. Per questo conclude. Sono sicuro che un giorno ci rivedremo dove tutto è pace, là dove l'intero universo gioierà del suo creatore.